Sì, sì, metti nello slot, io adesso clicco e sparisce, perché l'ho assoluto. Oddio! Ma che cazzo, da dove è uscito? Oddio, santo! Oh mio Dio, tu col fucile l'hai ammazzato! Poteva essere anche Atlas, un tuo amico che faceva... Uè, senti, e tu, boom! Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Saburo24 e oggi per questo primo episodio di Bioshock sono accompagnato da la mia ragazza. Ciao, io sono Giulia, anche meglio conosciuta come Saburo24 Streamer. Sì, esatto, perché diciamo lei streama sul mio canale Twitch, dove io purtroppo al momento non sono... Nel mio canale Twitch, cioè, dai. Dai, tuo, va bene. Eh, dai, lo so. Allora, ragazzi, perché sto portando Bioshock? Innanzitutto, non vi dovete preoccupare perché Rust e Resident Evil 4 hanno bisogno di tempo per farli uscire, perché Resident Evil 4 devo arrivare allo stesso punto del salvataggio in cui l'ho abbandonato, nella seconda run, e Rust invece devo mettere su un po' di farm per essere competitivo in quel server. Quindi al momento non ve li posso mostrare. Ho deciso di portare Bioshock come nuovo, diciamo, progetto, insieme ovviamente ad altri, Rust appunto, Resident Evil 4, perché è uno dei miei giochi preferiti in assoluto di sempre. Come tanti di voi, probabilmente, l'avete giocato tanti, tanti anni fa, saranno passati, quanto? Più di dieci anni fa, perché uscì nel 2006-2007, con vecchie generazioni... Quattordici anni fa. Quattordici anni fa, su Xbox 360 e PlayStation 3, e le emozioni che è riuscito a regalarmi sono indimenticabili, quindi sono sicuro che fra voi ci sono giocatori che ancora non hanno recuperato questo capolavoro, e lo consiglio vivamente, anche perché non costa molto su Steam, e c'è anche la Remastered, quindi, voglio dire, non ci sono scuse per non giocarlo. Ora lo giocheremo insieme, sarà un'avventura fantastica, anche magari per chi l'ha giocato quattordici anni fa. E perché non l'ha mai giocato? Esatto, e quindi direi di iniziare subito. Una cosa molto interessante, però, almeno nel primo episodio, perché poi non so se ci sarà anche nei prossimi episodi, Giulia, non ha mai giocato a Bioshock, giusto? Me lo confermi? No, ho solo visto qualche gameplay, ma non ci ho mai giocato in prima persona. Ok, quindi scoprirà un po' di cose. Allora, iniziamo subito. Eh, ho sbagliato. In realtà è perché voglio sentire questo bellissimo pianoforte. Inquietante. Sì, un po' sì. Sai che 9 donne su 10 preferiscono un uomo atletico? Pubblicità, tonico... Ma questa è... È una cosa verissima, ragazzi. Mira che sto scherzando. 1960. Nel mezzo del cammino... Ah, no. Non è quello. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero, figliolo, tu sei speciale. Sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Bellissima la scritta che pian piano... Arrugginisce. Eh, arrugginisce e prende muffa, sì. Il gioco iniziava con un incidente aereo che era abbastanza inquietante già di per sé, anche perché siamo gli unici sopravvissuti allo schianco. Sì. 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 Che cosa vedi? Un faro Un faro, esatto Quindi diciamo è un po' la nostra salvezza questo faro Perché è l'unica cosa in questo cielo buio Non si vede nulla Non si vede nulla Infatti immagina di trovarti nel mare aperto con l'acqua così scura di notte Esatto, e soprattutto sapere di essere l'unico sopravvissuto a quanto pare all'incidente Ma l'aereo si è schiantato contro qualcosa o solo ha perso... No, l'aereo è caduto in acqua Così? Esatto, non si sa il motivo Almeno all'inizio il giocatore non sa nulla L'unica cosa che vede è la luna piena come sfondo e questo magnifico faro E basta Ok Sì Quindi procediamo Beh, di sicuro è un po' particolare come faro perché... Sì, vabbè con le porte così placate in oro La porta si chiude Wow Questo personaggio i giocatori all'inizio non possono sapere chi è Però lo scopriranno ben presto, molto presto E c'è una bellissima frase che ti chiederei di leggere No gods or kings, only men Che tradotto significa... Nessun dio o re Solo... Uomini Solo uomo Sì, solo l'uomo, solo gli uomini Perché gods è in plurale anche re Sì, no, men è singolare Ma penso che lo usidirizzano per il plurale... No, men si usa con la e per il plurale Ok, ok E adesso che si sono accese le luci Notiamo un'altra cosa molto particolare Scienza Industria E arte Perché ci sono queste... Questi tre, come definirli? Categorie Di... Questi principi possiamo dire Perché comunque sono quelli su cui si basa, diciamo, l'evoluzione di un essere umano Oh, la società anche, no? Si può dire Diciamo, obiettivi della società Scienza, no? Che riguarda anche la medicina e quant'altro L'industria E l'arte E l'arte, sì, sì L'espressione dell'essere Esatto E poi abbiamo questo piccolo scafo che ci porta sott'acqua Quindi il giocatore è completamente spaisato Non sta capendo un cazzo Almeno io, all'epoca, non capivo un cazzo di cosa succedeva Che dici, tiriamo? Abbassa la leva, cronk! Vado! Era Ratchet & Clank No Cos'era? È fuori dell'imperatore Cusco Ah, giusto Il fiore in merda Vabbè Ci sta portando sott'acqua Un piccolo spavimento Dai fuoco alle tue dita Tips, idea, no? Sono Andrew Ryan E sono qui per porvi una domanda Un uomo È impossibile Scelgo Ratchet & Clank Una città in cui un artista non debba temere la censura Dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi Dove il grande non venga confinato dal piccolo E col sudore della vostra fronte Rapture può diventare anche la vostra città Ma siamo nel bel mezzo dell'oceano Atlantico come... Non ne ho idea Meglio darsi una mossa E alla svelta I recombinanti stanno arrivando Come fai a sapere che sta arrivando qualcosa di cosa stai parlando? Scherzi! Che c'è una batisfera in discesa Significa che abbiamo compagnia Quindi c'era una radio là dentro E abbiamo sentito qualcuno Capire che stavamo arrivando Giusto? Sì Almeno da quel poco che si è capito Ok, ancora un minuto La batisfera sta arrivando Johnny, la sicurezza si sta attivando ovunque Muoviti Atlas La prego signore Non volevo entrare abusivamente Non mi faccia male Mi faccia andare Può tenersi la mia pistola Può Guardate la faccia Qualcuno di noi No ma non usciamo Ma resta qui No ma la sta prendo praticamente Oh, scappa zì C'è molta ansia Raccogli quella radio Onde corti per cortesia Ok Ok, ok Allora Intanto abbiamo notato Che c'è una città sotto l'acqua Sotto il mare Atlantide Atlantide No Non lo so Che si chiama Raptor Perché l'ha detto Ryan Il fondatore Sembra una città quasi creata per aristocratici Per persone che se lo possono permettere Per scappare dalla società che impone dei limiti Avete letto il Vaticano C'è una chiara critica alla società e alla religione Esatto Alle istituzioni Alle istituzioni Alle Alle censure A tutta sta roba qua Pensiero Da parte mia Condivisibile Eh sì Però poi Si crea un po' anche Anarchia Sotto un certo punto di vista Cosa che vedremo Perché non ha funzionato a Raptor Perché a quanto pare Qualcosa non ha funzionato Abbiamo appena assistito Un omicidio A sangue freddo Non so come tu sia scampato A quell'incidente aereo Ma ho imparato a non discutere Con la provvidenza Mi chiamo Atlas E cercherò di salvarti la pente Ora muoviamoci Ti riporteremo in superficie C'è Ma un bel respiro Ed esci dalla batispera Prometto che non ti lascerò nei guai Dobbiamo fidarci Purtroppo Perché non abbiamo alternative C'è una psicopatica In giro Potrebbe essere anche qui Nascosta ad aspettarci Leggi lì La più grande catena È guidata dalla nostra mano Sì Dovrebbe essere così Allora Ci sono delle valigie Io sento Sì La voce di quella donna Sì della psicopatica Eh ma scusa Lui ti ha detto Ti aiuterò a salire in superficie Esatto E tu perché cazzo sei sceso Non potevi starte in superficie E beh oddio Comunque sia Ma intende che ti porta Proprio su terraferma Intende No in acqua così No ti porterà in superficie Ti porterà via Ma il problema è che Via dove? Abbiamo visto c'era solo un faro E basta Quindi sarebbe comunque destinato A crepare il personaggio Non ha cibo Non ha Punto Quindi Facciamoci seguire Da questo personaggio E vediamo un po' Che cosa succederà Oh mio dio Che ansia Ma buon signore Però Un po' calmo Oh merda Questo succede Quando non date Le pensioni Ai vecchietti Un po' più avanti Ecco Svambas 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 Provo a un piede di porro Qualcosa del genere Si circondesia Quei dannati ricombinanti Hanno chiuso dentro Giochi privati Maledetti Ricombinanti Li ha chiamati Abbassiamo un altro po' Il volume degli effetti Perché è estremamente alto E anche della musica magari La musica però la lasciamo a 6 Perché è molto molto bella Però gli effetti li abbassiamo Allora Chiave inglese Effettivamente il gioco Raccoglie un po' di generi diversi Tra cui Lo sparatutto Il gioco di ruolo What? Ok E Dicevo anche Horror Non c'è niente da controllare In giro di là No non c'è nulla Che io ricordi non c'è nulla Ora devi tornare di là Ok si è fermato prima Ah ok Ok stavo premendo io Per sbaglio il tasto Ci per rialzare E questo chi è? E un'altra persona Un'altra ricombinante Si un'altra persona Che ci ha aggredito Chi che parla? Sopra E al piano di sopra Perché non sono cibi sottotitoli Tra l'altro E i sottotitoli Penso che escono Nei momenti in cui Ci sono cose importanti Sì Allora la musica Cioè la voce Veniva da sto coso Sei forte come il mio papà? Ma Boh Wow Lui tiene tatuate le catene Sì Perchè l'hai fatto? Il tuo codice genetico Sta per aver riscritto Non muoverti E tu non terrà bene Però l'hai detto Non muoverti Mamma mia Questo piccolo pesciolino Sembra letteralmente esploso Chissà se c'è ancora Dell'Adam nel suo corpo L'Adam Sentito Filiamo Fifone Sei un coniglio Per questo pesciolino Non vale la pena Provocare un big daddy Big daddy Come sempre Il tuo paparino metallico Non ti salverà pesciolino Ti vedrò galleggiare nell'oceano Wow Le minacce Big daddy Big daddy È una mucca Scene importantissime Che fanno capire Tante cose Comunque Cioè Anche senza dire nulla Si capisce tanto Di cosa sono queste creature Stai bene ragazzo Il primo plasmide È sempre una bella bosta Ma Non c'è niente Come un pugno di fulmini Dico io O no Certo Allora Che cosa Intanto le catene Che mi hai fatto notare È importantissimo Perché Il manifesto Cioè Quella Sì Quella bandiera che hai letto C'era scritto La più grande catena Insomma Nelle nostre mani È nelle nostre mani Lui ce l'aveva sui polsi Esatto Chi sa come mai Esatto È strano Cioè È come se Lui Già doveva essere È correlato a questo posto Sì Come mai ha preso la siringa E se l'è infilzata Subito Subito Così senza Cioè Chi lo farebbe Solo un pazzo Lo farebbe Non sai manco Che cos'è Potresti morire Già c'è gente Che non si fa i vaccini Figurare di gente Cioè appunto Sì Cioè è strano E poi Un'altra cosa Il Big Daddy Questa creatura Che abbiamo appena visto Con la bambina Non ci hanno ucciso Anzi la bambina Si è accorta Che eravamo ancora vivi E ha detto Ah È un angelo Lasciamolo stare È ancora vivo Quindi Effettivamente Big Daddy Non è un pericolo A quanto pare Come anche la bambina Invece Quei ricombinanti Vogliono l'Adam Che cos'è l'Adam E Quella roba Che abbiamo preso Qui sopra Una E che a quanto pare È un Una specie di tonico Che va a modificare Il DNA Sicuro che si chiami Adam Quello Sì Sono abbastanza sicuro Che si chiama Io non credo Eh sì perché Sì perché Ha detto C'è ancora un po' Dell'Adam in lui Nel senso Dell'uomo Primo Cioè nel senso Di un uomo normale Ah Invece loro non sono più Adam perché sono modificati Da questo plasmide Tu dici Io penso di sì Perché il plasmide Questo non è Adam Va bene va bene va bene Ci fidiamo Ci fidiamo Ma andiamo avanti Andiamo avanti sì Ora abbiamo Questo potere Che è l'elettricità Quindi possiamo anche Che poi L'elettricità sott'acqua C'è È abbastanza pericoloso Uh Cazzo Metà dell'aereo Scusate I tasti Sto ancora Provando a imparare Mi scivoli Uh cazzo Si sta rompendo tutto là Via 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 Possiamo Sfruttare a nostro vantaggio Questa cosa Dell'elettricità Con l'acqua Per amplificare Il danno Effettivamente Perché l'acqua È un ottimo Conduttore Elettrico Esatto Ricombinati Vai con doppio al tasso Fulminali E vai colpisci Ricorda A sinistra Eccolo lì Non l'ho toccata Ah beh Funzione anche bene Come tattica Figo Non l'ho toccata Cosa non l'hai toccato Sì perché Era riferito al Big Daddy No? Cioè Come se Perché se tu tocchi la bambina Il Big Daddy A quanto pare Sì 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 Per questo Penso si chiama Big Daddy Che cazzo era? Io mi muoverei Anche Velocemente Perché Oh Sta bruciando vivo Ma muori Aia Quanto pare Stavamo subendo danni Perché eravamo sull'acqua Sì eravamo sull'acqua Allora Il combattimento È molto interessante Non me lo ricordavo così bello È bello fluido Sì sì È molto bello Un ascensore E per gli anni 60 Questo posto è estremamente Sviluppato Una famiglia Devo portarla via Di qui Ma i ricombinanti Ci hanno separato Se riesci a raggiungerla A Neptune's Bounty Forse Dico Forse So che ti senti L'uomo più sfortunato Del mondo In questo momento Ma sei da sola Speranza Di rivedere Mia moglie E mio figlio Aia Neptune's Bounty Trova la mia famiglia Per favore Storia triste Ma che è Annabelle Ma che è Senti che dice Quando sola Ti lascerà Ti Ti Sono Caminati È inquietante Vai 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 Vedo lei Vedo lei Sì sì un attimo Intanto la faccio finire di cantare Voglio sentire Sì La mamma È adatta E anche il papà Aspetta Questo Sta accadendo Prima E Non Perché Non sei qui Perché È oggi E non allora Ma è fuori Ragazzi se andiamo avanti Perdiamo il dialogo E perdiamo Qualcosa di interessante Da capire Di questi Ricombinanti Sarà morta la bambina Penso Ma secondo me Neanche ci sta la bambina Ma Sconnette il tempo Sì sì È fuori di testa Gente fuori di testa Poi perché Ha un cazzo Di tubo in mano Ehi Signora È proprio fuori Lo facciamo per il suo bene Mamma mia Che mazzate Gli ho dato il faccio Gli hanno cambiato tutto Gli hanno distrutto Il corpo e la mente Non sapevamo gestirli Amici che si massacravano Tra loro Neonati strangolati Nella culla Mamma mia La città Andò in manola Ah la bambina Eh cazzo che bambina La prendo io la bambina Mi occuperò io di lei Comunque abbiamo un revolver Ragazzi Un revolver Interessante Pistola Di nazionalità Americana Ok Ah beh È una revolver Ah beh Perché hanno le maschere Poi i plasmidi Le maschere Se le mettono Probabilmente Perché si sentono brutti No non sto scherzando I plasmidi A quanto pare Ricombinando Sì però I plasmidi Che si iniettano Gli va a modificare il corpo È il mio Adam Sì sì Liticano Tra per Ma io Guarda Onestamente penso che l'Adam Sia quella roba Che si sparno Con i plasmidi Che loro lottano Per l'Adam No veniamo Belli le maschere Comunque Tanto raccogliamo Oh cazzo Ah è vero Perché non te lo mette Nell'inventario Ci siamo alcolizzati Cioè ubriacati Dura poco Per fortuna Divertente Sì tra l'altro Può anche avere dei malus Come in questo caso Ci ha tolto del malo Eh c'è qualcuno C'è qualcuno qua Cos'è sta roba? Tipo come un ricordo No sì ma mi ha fatto lo sc... Ecco vedi Non ricordo Ah sì 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 Il viso Vedi vedi Nessuno mi vorrà Sì sì Vengono modificate letteralmente D'aspetto Infatti vengono riscritti Nel codice genetico Comunque Sì L'ha detto Atlas Uh interessante Ciao Brandon Ti dispiace dirmi perché hai un buco sul muro del cesso delle dimensioni di Flymouth Rock Da ormai tre settimane Minchia tre settimane Ora io non dico di essere Shakespeare Ma sto cercando di dirigere un teatro rispettabile Ho dei lavoratori in arrivo da Port Neptune In cerca di un piccolo svago E non riescono a pensare ad altro che alla puzza che esce dal tuo cesso Pallaggio stare Beh oddio Penso che Questo messaggio era Quando ancora tutti erano normali Perché Oh Oh cazzo Ma non sparare Consumi i proiettili Eh beh Li dobbiamo sparare Usare Ah li trovi durante Eh beh Immagino di sì Vai nel bagno degli uomini Sì Qui ci dovrebbe essere il buco tra l'altro Sì C'è il buco Però a questo punto Esploriamo prima no Che dici C'era al piano di sotto Un attimino E andiamo a vedere È facile farsi sfuggire qualcosa Oh Guarda là Ma c'è gente Sei in acqua Attento Sì sì Sfrutterò a mio vantaggio Hai ucciso il mio Charlie Hai sentito Farmi interposire Di trovo di te Di trovo di te Di trovo di te Sì eccola Wow Ah ma Questa è fortissima Ha resistito tantissimo Quindi ci sono alcuni Che sono molto più forti Di altri Cos'è questo vodka? No 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 Niente alcool Bevi E adesso Devo solo capire Come si usa il kit medico Il kit medico Vediamo un po' Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto il tasto Per il kit medico Adesso finiamo L'esplorazione Oh la cucina Oh la cucina Sento una donna Cioè qui si sono letteralmente Massacrati tra di loro Oh la cucina Oh la cucina Oh oh Ci ha sbloccato anche Il tostapane Nella vasca Bellissima sta cosa Quindi c'è Effettivamente Della fisica Che ragiona Come del senso Tipo Lei triscià con l'acqua E così via Un altro Capodanno Sentiamo Un altro capodanno Un'altra notte da sola Sono fuori E tu sei bloccato A Hephaestus Al lavoro Sai che sorpresa Credo che mi farà Un altro drink Un brindisi A Diane McClintock La ragazza più stupida Di Raptor No È stupida Da innamorarsi Di Andrew Ryan Così stupida Da Che succedesse Lo sto sanguinando Oddio Che sta succedendo Andrew Ryan È il fondatore Esatto Lei si era innamorato Di Sei tu Giù le mani Da lei Eccola Ha una torcia Prendi la torcia No Non la puoi prendere Non la puoi prendere Ci sono delle armi Specificate Che potrai raccogliere Utilizzare Fucile a pompa Mitra Quella roba del genere Se non sbaglio Anche qualche altra arma Da corpo a corpo Allora Proseguiamo di qua Ma voi si spune Sta' attento Per cortesia Potresti abbassare Quell'arma Per un minuto Una bambina Credi che sia una bambina Quella là sotto Non farti fregare Ora è una sorellina L'ho preso e trasformato La dolce ragazzina In un mostro Qualunque cosa Tu abbia imparato In superficie Su ciò che è giusto E sbagliato Non ha valore Quaggiù a Rapture Quelle sorelline Trasportano Adam Il materiale genetico Che oli Agli ingranaggi Di Rapture Tutti lo vogliono Tutti ne hanno bisogno Ci abbiamo scorto Un'altra cosa Adam è E quella roba lì La bambina Ha una voce inquietante Comunque E sta infilzando Un cadavere Beh è una bella Comunque Si Sta infilzando Un cadavere Allora Onestamente Penso che mi sta dando Un po' fastidio Quella freccia Cioè nel senso Non voglio essere Troppo guidato Che ne dici No lasciala Fidati Più avanti Potrebbe servire Va bene Vediamo un po' Vediamo che succede Infatti Ma è bruttissimo L'ha fatto pure silenzio Ma dai Una bambina Ma ben di chi sta Se ti uccide Mamma mia Oh mio Dio Che violenza Bello è il Big Daddy Lei recupera Adam Lui la protegge Beh penso sia un'ottima presentazione Abbiamo capito cos'è effettivamente il Big Daddy Porca la miseria Ah io ragazzi ve lo dico Io ho un debole per le musiche degli anni 60 Cioè ho proprio un debole Anni 50 40 Mi rilassano tantissimo Ho tutto ripetuto col gramofono Si esatto Sono bellissime Commenti del regista Bobbine dorate Hai sbloccato un episodio dei commenti del regista Poi riprodurlo ora O accedervi più a tardi dal menu principale Riproduci filmato Allora no li ricopriamo alla fine Guarda se tu premi c'è scritto allerta spoiler I commenti includono discussioni approfondite su vari dettagli della trama Incluso il finale Quindi lasciamo proprio perdere Lasciamo proprio perdere Li andremo a recuperare verso la fine del Cioè anzi alla fine del gameplay Allora Ragazzi siamo quasi alla fine dell'episodio Potremmo anche concludere qui Io Allora io ve lo dico Anche se Non dovesse piacere come gameplay Mi dispiace Ma io ho intenzione di finirlo Perché Intanto Voglio fare gameplay che mi divertono E io avevo tanta voglia di rigiocare a Bioshock Rigiocandolo sto Lo sto apprezzando ancora di più rispetto al passato Perché è veramente incredibile come gioco Tu cosa ne pensi? Molto Molto bello Molto bello Anche perché Sembra Bello action Bello forte E metti anche quell'ansia giusta Esatto E ha quella trama molto particolare Che secondo me è da portare Esatto Anche secondo me Però andiamo un po' più avanti Tu dici? Sì Anche se durerà un po' di più Va bene dai Andiamo un po' più avanti Allora Sbaglio Ho premuto Penso sia arrivato il momento di usare le armi da fuoco Quindi direi proprio di solo Le mostrerò cosa succede ai tipi come lei L'ho trovata già così In testa E qui ce ne dovrebbero essere altri Più in acqua Mi dispiace per poi E c'è anche un Big Daddy morto Siamo sicuri che si è morto? Sì Ma i Big Daddy non sono esseri umani però No non penso siano esseri umani Non ne sono sicuro Lo scopriremo comunque Allora c'è un altro di queste bandiere Chiamiamole bandiere Cos'è? Cos'è dice? Altruismo E la radice Brut non è via strada È la strada Sì È la strada del Ah No è la radice di tutti i mali Ma ci sta la traduzione Ho detto che è radice Ragazzi mi dispiace C'è proprio la traduzione se mi riedro E poi quello è Road Esatto è Road Allora l'altruismo è la radice di tutti i mali Sei d'accordo? L'altruismo è la radice di tutti i mali Io direi proprio di no 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 Whisky No Stai bevendo tutto un whiskey Eh Non l'ho fatta appunto Adesso vedi la bambina la spari Allarme di sicurezza è in corso Eh ridi ridi scendi Ti faccio vedere io Non mi ha solo uno Due Eh sì Oh là Anche sì Ok due li abbiamo fatti fuori C'è ne dovrebbe essere un'altra là Bello che esce anche il fumo dalla pistola Hai visto? Sì 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 Ma è molto bello Ah Che bambina Eccoli altri Salta salta Farò colpirla Ci ha trovato Un'azione Ha chiuso l'accesso a Neptune Ma c'è un'altra via d'accesso Divisiti al padiglione medico Che cosa specce Ok il padiglione medico Andiamo Subito vai Sì sì Sto raccogliendo tutto quello che posso Cioè l'esplorazione comunque In questa tipologia di giochi Secondo me È fondamentale Assolutamente Allora il kit medici Non ne possiamo prendere più Quindi lo usiamo Oh Lo prendiamo Bene Ok Sì Probabilmente curano Ecco il padiglione medico Ah si attacco Sì dà l'effetto Oh Ora? Cristo si è intrappolato Provo a bypassare l'uscita da qui Intanto che Quindi è Ryan che ti ha bloccato Sì così si è intra Dunque dimmi amico Quale delle agenzie ti è mandato? Il lupo del Kegevene O lo sciacallo della CIA Tu si è americano Ti dico Rapture non è una nave Andata da saccheggiare Andrew Ryan non è un tipo eccentrico Che si fa prendere a schiatti Dalle ingerenze del governo E con questo Addio O da Svidania Come avrebbe Certo è nel dubbio È nel dubbio Bellissimo Mi ricorda quando lo disse John Wick Oh cazzo Sei horror questo ragazzi Finché sei horror Ma non riusciranno a passare Vero? Ci sono Vagli di lì Sì sì Non lo devi neanche ripetere Caspiterina Mira la testa Infliggerai danni maggiori Vabbè Quindi Ryan ha cercato di intrappolarci E farci uscire Pensava che fossimo una spia Esatto No lo pensa ancora Probabilmente Caspiterina Perché altrimenti ci avrebbe lasciato andare Ora hai conosciuto Andrew Ryan Il maledetto re di Rapture Adesso prova l'accesso di emergenza Ok Qui siamo arrivati in un'altra sezione del gioco Quindi direi di bloccare qua il gameplay Siamo al padiglione medico Quindi nel prossimo episodio ragazzi Vedremo questo padiglione medico Io ho dei ricordi bruttissimi Perché era abbastanza horror Come sezione di gameplay E niente Vi saluto ragazzi Spero che vi sia piaciuto l'episodio Alla prossima Alla prossima Ciao ragazzi Ciao